sento che sei vicino alla fiamma questo è il tempo in macchina con noi che le faccio con le popole e lei guarda qua e questo è ieri sul camion di Stefano no, andate a portare anche qui le ha vittuto in sacco il camion guarda che mi stira fuori, guarda però abbiamo visto caritarle però poi da quel camioncino abbiamo portato via ve lo abbiamo caricato